Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel luogo dei chiodi e non metto la mano nel suo costato, non crederò. Entriamo con questa frase di Tommaso nel Vangelo di questa seconda domenica di Pasqua che ci consegna coordinate preziose per fare anche noi una rinnovata esperienza del risorto. Gesù nella domenica di Pasqua si è manifestato ai suoi, che erano riuniti nel cenacolo, rinserratili per la paura dei giudei. Gesù stette in mezzo ed essi gioirono al vederlo, ma Tommaso non era con loro. Ecco il problema. Successivamente i discepoli lo incontrano e gli annunciano abbiamo veduto il Signore, ma lui non crede. Da una parte vuol vederlo anche lui, dall'altra non presta fede all'annuncio della comunità, della chiesa. Cerchiamo di capire. Proviamo a scendere nel cuore di Tommaso e nel nostro cuore. La durezza delle condizioni che Tommaso pone, vedere, mettere il dito, toccare con mano, anzitutto nasce da una sua grande sofferenza. Tommaso aveva detto andiamo a morire con Gesù e poi, come tutti gli altri, nell'ora della passione, ha lasciato solo il Signore. Immaginiamo il suo marasma interiore. Non è riuscito ad amarlo come avrebbe voluto. Vorrebbe dunque credere, ma non riesce. In fondo soffrire di non amare qualcuno è segno di un cuore sincero, capace di amore vero. Soffrire di non riuscire a credere potremmo dire che è una forma di fede incompleta ma sincera. Tanti soffrono di non riuscire a credere e a volte anche noi credenti non siamo di grande aiuto. Ma è altresì vero che persone come Sant'Agostino e Pascal si sono sentite rispondere in un certo modo da Dio. Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, anzi se io non ti avessi già trovato. Desiderare senza credere può essere una fede germinale più pura di un credere senza desiderare, dando tutto per scontato. Ma in fondo la sofferenza di Tommaso è la sofferenza di chi mette in confronto la sua esperienza di fede con quella degli altri e si sente da meno. Tommaso vuol vedere Gesù, vuol fare anche lui esperienza del Signore risorto, come gli altri testimoni oculari che hanno vissuto come lui con Gesù. Della serie Perché voi sì e io no. Attenti, non è banale. Quante persone lamentano di non vivere ciò che gli altri sperimentano? Ad esempio di non sentire le stesse cose quando pregano? Di non avvertire lo Spirito Santo come altri dicono di fare? O vivono la partecipazione all'Eucaristia solo come un dovere, senza avvertirla come un aiuto per il quotidiano o per l'intera settimana? Capiamo allora che la richiesta di Tommaso di vedere, di toccare così come gli altri, non è peregrina, anzi è intensa, sgorga dal suo cuore ferito, desideroso di Gesù. Moriva dal desiderio di vederlo e dalla paura di credere e quel desiderio frammisto al dubbio non lo lascia lì fermo, ma è accompagnato da una ricerca concreta. Vedete, noi possiamo avere anche dei dubbi, ma fare di quei dubbi una scusa per non muovere neanche un passo. Invece no, ritroviamo Tommaso otto giorni dopo, nella domenica successiva, con i discepoli riuniti insieme nel cenacolo. Potremmo dire che Tommaso si mette nella condizione di incontrare, o meglio, di lasciarsi incontrare dal risorto, andando dove lui si rende presente, nella comunità riunita che celebra di domenica. Non è a caso, ci ricorda dove incontriamo anche noi il Signore risorto. E lì, proprio lì, Gesù gli va incontro, liberandolo dalle sue paranoie. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo, ma credente. Pensate, Tommaso sente ripetere da Gesù le stesse identiche parole che lui aveva detto. Comprende così che Gesù è sempre stato presente, lo ha sempre ascoltato e quindi lo ha profondamente a cuore. E Gesù gli va incontro per salvarlo dai suoi dubbi e in fondo per salvarlo da se stesso, che tanto si stava logorando, costringendosi a soffrire. Verete, miei cari, anche se in modo diverso, il Signore continua a fare così anche con noi. In mille modi continua a venirci incontro, rispondendo alle nostre suppliche sincere, come lui sa e come lui vuole. Ricordo la testimonianza di una donna, alla quale fu ucciso il marito per aggressione, per rapina. Questa donna, che frequentava, che era in cammino di fede, andò seriamente in crisi e disse al Signore, ora mi devi dare una risposta. E lo cercò con tutto il cuore fra mista rabbia, a dispiacere, a quel non senso che la accompagnava, finché dopo tempo, durante un ritiro spirituale al quale partecipò, pregando e leggendo un salmo, fu colpita da una frase, da un versetto, che parlava di vita eterna. In quel momento disse, mi si aprirono mente e cuore. Alla certezza della risurrezione sperimentai dentro di me una profonda pace e ho riletto tutto con occhi diversi e iniziai a dire, Signore, ma allora lui è con te? Tu davvero l'hai salvato? E tu mi sei vicino? Allora non ho da temere. In quel momento dentro di lei avvenne uno stravolgimento, un po' come accadde per Tommaso. Chissà, Tommaso, vedendosi davanti Gesù, si sarà sentito morire dalla gioia, ma anche dal dispiacere. Si sarà accorto di aver perduto l'occasione che gli era stata offerta, poter dare a Gesù la sua fede. Mostrandosi scettico, si era comportato un po' come un bambino viziato che cerca di imporre le sue esigenze all'amore della mamma o del papà, di cui è perfettamente sicuro. Il Vangelo, miei cari, non ci dice se toccò o meno Gesù. Se l'ha fatto, l'avrà fatto con delicatezza, per obbedienza al Signore e forse anche con pentimento. I pittori moderni, come il Caravaggio, lo hanno rappresentato in maniera un po' truce, mentre va giù pesante con le dita nelle ferite. I pittori antichi, più spirituali, soprattutto delle icone orientali, lo hanno rappresentato invece curvo, in adorazione, come chi vorrebbe sprofondare davanti a Gesù. E Tommaso prorompe nella più alta e bella professione di fede, carica di commozione personale, mio Signore e mio Dio. Tommaso fa la più bella professione di fede davanti alle piaghe del Cristo risorto. Tommaso è vinto da quell'amore misericordioso, davanti a quelle piaghe che lo fanno scoprire scandalosamente amato. Quelle ferite causate da noi sono feritoie del suo amore, del suo perdono, che ci restituisce vita e gioia. Come disse Padre Cantalamessa, Gesù l'ha tanto amato, ha guarito Tommaso con tanta dolcezza, da cambiare questa sua colpa in meravigliosa esperienza di lui e in mirabile ricordo. Gesù così rimette i peccati. Lui sa fare di tutte le colpe umane delle felici colpe, come abbiamo cantato nell'Exulted Pasquale, che puoi ricordare come occasioni dove hai sperimentato la fedeltà e la tenerezza di Dio. Infine Gesù dice Tommaso, hai creduto perché mi hai visto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Di solito si pensa sia un rimprovero acidulo a Tommaso. La costruzione in greco invece ci suggerisce altro. Gesù si felicita con Tommaso, che è giunto a credere perché ha visto. Al contempo Gesù deassolutizza l'importanza del vedere fisicamente e apre la beatitudine anche a chi crede senza vedere, dunque apre la beatitudine della fede anche a noi. Anche noi possiamo credere, dunque incontrare il Signore e fidarci di Lui anche se fisicamente non lo vediamo, come lo hanno visto i dodici, i primissimi discepoli. A loro è stata accordata la visione di Gesù risorto perché la trasmettessero, l'annunciassero, la testimoniassero a noi tutti e noi accogliendo la testimonianza di chi ci ha preceduto possiamo fare esperienza di fede. Gesù stesso aveva parlato di coloro che crederanno in me mediante la loro parola e chi accoglie voi accoglie me. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci dunque tirar dentro questa beatitudine. Mettiamoci in condizione di lasciarci incontrare dal Signore risorto che ci parla mediante la sua parola, specie con il Vangelo, che si rende presente soprattutto nei sacramenti della Chiesa. Come disse San Bernardo, il verbo di Dio fatto uomo è un sacco di misericordia che nella passione con le stimmate si è riversata su di noi. E San Bernardo continua, se sono depresso, se ho peccato troppo, potremmo aggiungere se sono nel dubbio, se sono nell'aridità, vado e mi rifugio nelle piaghe del Signore. In fondo ognuno di noi è piagato e risolve la sua vita se la unisce alle piaghe del Signore. Anche se non lo vediamo, anche se non sempre lo sentiamo, la fede ci aiuta a appoggiarci su di Lui, sapendo che Lui c'è, ci ama e non ci molla, ci ha amati a caro prezzo e porta ciascuno di noi impresso nel palmo delle sue mani. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti è Cristo risorto, è veramente risorto. Alleluia!